Ben ritrovati, siamo pronti per una nuova puntata di Primo Cittadino, do subito il benvenuto al sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri. Buonasera sindaco. Buonasera e buonasera a tutti i telespettatori. I numeri di telefono 0721 86 14 33 per parlare direttamente con il sindaco oppure 338 49 68 250 per mandarci un messaggio tramite whatsapp. Nel corso di questa diretta sindaco parleremo delle opere pubbliche previste per il 2022, dei lavori in corso e risponderemo ai cittadini. Cittadini che presto avranno la possibilità di assistere via web in diretta streaming alle sedute del Consiglio Comunale. Un altro passo avanti. In merito alla digitalizzazione dell'ente, quindi il Consiglio Comunale sarà in diretta streaming tra qualche mese. Dobbiamo fare degli aggiustamenti per quanto riguarda la strumentazione tecnologica della sala del Consiglio Comunale. Una mozione votata all'unanimità, quindi un ulteriore canale informativo che si aggiunge a quello whatsapp, all'applicazione My Mondolfo Marotta, quindi a una serie di canali informativi per avvicinare sempre di più i cittadini all'ente, all'amministrazione comunale, al Comune di Mondolfo e per conoscere quelle che sono le novità e i progetti importanti che stiamo portando avanti. Quindi per la prossima primavera o per il periodo estivo più o meno? Sì, sì, nei prossimi mesi. Non ci vorrà tanto tempo però insomma dopo l'approvazione del bilancio di previsione. Partiamo subito dalla sicurezza stradale perché c'è un finanziamento regionale molto importante, si parla di ben 100.000 euro. Quali sono gli interventi previsti? Abbiamo previsto il rifacimento del manto stradale di tre strade, via San Pasquale a Mondolfo, vicino al cimitero comunale, via Svevo a Marotta Nord e via Gagarin nel quartiere di Piano Marina, a lato scuole. Erano tre interventi richiesti dai cittadini da diverso tempo, siamo riusciti partecipando a questo bando regionale ad ottenere il finanziamento e quindi aggiungeremo altri 45.000 euro a bilancio, era previsto un cofinanziamento e quindi poi effettueremo gli interventi nel 2022. Abbiamo ottenuto un altro contributo dallo Stato, in base al numero degli abitanti sono arrivati anche 60.000 euro a cui aggiungeremo a questo importo, non sono tantissimi però ci permettono di andare a sistemare alcuni tratti stradali del territorio. E c'è un altro finanziamento del Ministero dell'Interno, in questo caso che riguarda il decoro urbano. Sì, per il decoro urbano intanto, ecco l'immagine del comune ciclabile, abbiamo ottenuto per il quarto anno consecutivo la bandiera gialla di comune ciclabile e in realtà il finanziamento è arrivato dal Ministero dell'Ambiente per quanto riguarda il percorso ciclopedonale Centocroci-San Gervasio e quindi avremo due nuovi collegamenti nel 2022, avvieremo il percorso che collega Centocroci con San Gervasio e poi concluderemo l'opera di urbanizzazione, si concluderà l'opera di urbanizzazione che è il collegamento di Via 25 Aprile e Via Primo Maggio con Via della Luna, ecco proprio questo intervento che si concluderà appunto nel 2022 e proseguiranno i lavori nelle prossime settimane. Quindi due collegamenti importanti sul tema della mobilità sostenibile a cui crediamo tanto per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Ci sono novità importanti che riguardano il sottopasto delle rane ma vado a leggerle i primi messaggi. Potresti chiedere al Sindaco quando demoliranno la scalinata davanti all'hotel Trieste? È un progetto a cui teniamo tanto e dobbiamo trovare le risorse a bilancio in questo mandato per farlo perché l'avevamo promesso poi le priorità sono sempre tante durante l'anno però dovremo poi nei prossimi anni effettuare questo intervento che richiedono i cittadini del quartiere. Le chiedono se è in progetto un'area sosta camper a Mondolfo anche per i periodi invernali con servizi corrente e carico scarico dell'acqua. In realtà un'area sosta camper già esiste nell'ultima variante che abbiamo portato avanti in consiglio comunale e approvato è prevista un'area sosta in località Sterpettine e quindi che si aggiunge a quella già esistente nel territorio comunale. Poi vedremo se il privato è ancora interessato a portare avanti questo progetto. Per quanto riguarda il sottopasso delle rane ci sarà un intervento importante a seguito di un incidente stradale che è avvenuto lo scorso anno dove un furgoncino ha lesionato la trave di sostegno del ponte che andiamo quindi a sostituire per migliorare appunto la sicurezza del sottopasso. Ci saranno dei disagi per i cittadini della zona perché verranno... Ecco dovremmo avere anche una foto del sottopasso, diceva dei disagi? Ecco le mie spalle. Sì, dei disagi perché chiuderemo, siamo costretti per i lavori a chiudere le due rampe di entrata e uscita dalla zona mare, verrà chiusa anche via Damiano Chiesa, quindi i cittadini che dovranno accedere dalla zona nord dovranno entrare nella zona mare dal sottopasso, dal vicino sottopasso di Ponte Sasso e poi prevediamo un cambio di viabilità con il doppio senso di marcia sul lungomare fino a Piazzale Ricci in modo tale da permettere anche ai cittadini che vengono da nord di raggiungere appunto la zona mare quindi nei prossimi giorni partiremo con i lavori e poi informeremo la cittadinanza sui canali. E sicuramente ve ne daremo conto anche nel corso del nostro telegiornale. Aveva detto che nel 2022 il sindaco avreste rinnovato il lungomare di Marotta nord ma lo farete, la zona versa in uno stato di degrado pietoso e non sono ancora stati puliti i marciapiedi in lato monte dopo l'alluvione di novembre. Inoltre la città, le dicono, sta diventando una discarica a cielo aperto con immondizie e sporcizia ovunque bisognerebbe fare qualcosa a riguardo. Ma adesso mi sembra un pochino esagerato il commento. Tra l'altro il lungomare di Marotta nord negli ultimi anni è stato oggetto di un intervento importante di riqualificazione con la nuova ciclovia adriatica. Continueremo comunque gli interventi di manutenzione del nostro litorale. A mio avviso necessita di maggiore intervento in questo momento la zona sud perché negli ultimi anni siamo intervenuti nella zona centrale e nella zona nord e semmai nei prossimi anni dovremo intervenire sulla zona sud del lungomare. Se penso a prima del 2016 quando mi sono insediato e pensiamo a com'era il nostro lungomare quella volta è cambiato totalmente in meglio, è diventato più appetibile, più accessibile. C'è una migliore immagine della nostra città soprattutto per quanto riguarda il nostro lungomare che è visitato da tanti. Vorrei chiedere anche per quanto riguarda il percorso mountain bike lungo il fiume Cesano sia regolare o meno e magari farlo un po' più bello e sponsorizzarlo per i turisti. Anche questo magari può essere fonte di attrazione. Sì abbiamo fatto una collaborazione che sta andando avanti con l'associazione Avis Mondolfo Bikers per la manutenzione di questo percorso lungo fiume e poi abbiamo ottenuto questo finanziamento da parte della regione Marche proprio su un progetto ancora più importante che riguarda la ciclovia del Cesano però per la partenza dei lavori ci sarà da aspettare un po' di tempo. Le somme sono state traslate dal 2021 al 2022 dalla regione Marche e quindi stiamo portando avanti la progettazione esecutiva assieme a tutti i comuni della vallata del Cesano. Però anche quello è un progetto che partirà. Via Illica, sindaco, riuscite a sistemarla? Avete in programma anche l'asfalto in questa strada? Sì, quella è una via che abbiamo ereditato dal comune di Fano purtroppo dove non sono state realizzate le opere di urbanizzazione dove il comune ha incassato le risorse ma senza poi chiedere al privato le opere di urbanizzazione o senza realizzarle appunto il comune stesso e quindi l'illuminazione pubblica l'abbiamo fatta qualche anno fa servirà poi fare asfaltatura e marciapiedi ci vuole un po' di tempo anche perché nei prossimi anni ci dedicheremo molto alla riduzione del rischio allagamenti e quindi daremo priorità soprattutto a quegli interventi con le risorse a bilancio. Quando invece è una eliminazione delle bacheche nel centro storico? Dipende di quali bacheche si parlano la domanda non è molto precisa chiediamo maggiori informazioni e poi daremo risposte così riusciamo anche a dare delle risposte un pochino più precise. Andiamo avanti con il cartello che ci mostra le opere previste per questo 2022 ecco qua, le opere pubbliche partiamo dall'adeguamento sismico della scuola Fermi Sì, questa è una serie di opere pubbliche che alcuni lavori sono partiti sono già state finanziate e vedranno la conclusione nel 2022 come l'adeguamento sismico della scuola media Fermi l'ampliamento del cimitero comunale i cui lavori partiranno nelle prossime settimane il restauro e miglioramento sismico del bastione Sant'Anna vorremmo inaugurarlo in occasione delle giornate FAI di primavera quindi questa primavera speriamo di riuscirci perché i lavori stanno andando alla conclusione i lavori di sistemazione idraulica protezione dell'abitato di Marotta Nord in particolare questo nuovo scarico a mare su via Corfu e su questo nei prossimi mesi faremo anche un'assemblea pubblica nel quartiere per far conoscere i progetti e il programma dell'amministrazione comunale per ridurre rischio allagamenti in quella zona il percorso ciclopedonale di cui parlavo prima Centocroci-San Gervasio e anche la rotatoria tra la strada statale 16 e la strada pergolese 424 sono stati fatti dei passi in avanti l'ANAS ha realizzato finalmente il progetto esecutivo ce l'ha presentato è stato inviato alla direzione generale dell'ANAS per l'approvazione finale e quindi speriamo di riuscire a partire con l'inizio dei lavori nel 2022 un'infrastruttura importante per la viabilità per tanti cittadini sia residenti ma anche tanti pendolari che percorrono la strada statale e la pergolese tutti i giorni e andremo in consiglio comunale quindi con il progetto esecutivo che ci ha presentato ANAS nei prossimi mesi per l'approvazione ok quali sono i progetti per un rilancio turistico del centro storico quest'estate le scrivono si è visto parecchio movimento grazie ai poli museali ma non è stato altrettanto vissuto dal punto di vista delle manifestazioni chiedo quindi se ci sono in progetto delle iniziative ecco anche pandemia permettendo sì finalmente si spera potremo ritornare al diciamo agli eventi alle iniziative nel nostro centro storico non che l'anno scorso non le abbiamo fatte perché comunque è stato abbiamo organizzato assieme Proarte Mondolf e Filippo Sorcinelli il Sinestesia Festival anche se in maniera ridotta il teatro in piazza nei lunedì di luglio quindi comunque ritorneremo con le iniziative con le mostre le esposizioni per attirare sempre più le persone nel nostro borgo nel nostro centro storico La videosorveglianza invece verrà potenziata perché la Giunta ha dato l'ok all'installazione di altre spycam Sì altre telecamere si aggiungono a quelle che abbiamo realizzato negli anni scorsi davanti al casello dell'autostrada alla stazione ferroviaria e al confine con il comune di Senigallia ne aggiungeremo altre mancavano delle telecamere nel centro storico di Mondolfi in particolare in piazzale Borroni e in piazza del comune e anche in altri punti strategici della città come ad esempio in piazza dell'unificazione nella zona mare partecipiamo con il progetto che è stato studiato assieme alle forze dell'ordine con il vice sindaco e assessore al bilancio e alla sicurezza Carlo Diotallevi parteciperemo quindi abbiamo partecipato ad un bando speriamo insomma di ottenere dei finanziamenti abbiamo inserito anche un cofinanziamento importante da parte del comune che dava un maggiore punteggio e quindi il progetto anche se non riusciremo ad ottenere il finanziamento comunque lo realizzeremo con le risorse del bilancio comunale Facciamo vedere a casa un'altra fotografia così la commentiamo insieme ai sindaco eccola qua la facciata di Sant'Agostino Sì, tra i vari interventi che ci sono lì abbiamo citato le opere pubbliche più importanti ma poi ci sono interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria tra questi c'è il restauro del complesso di Sant'Agostino di una facciata del complesso di Sant'Agostino e delle pavimentazioni ma anche altri interventi per quanto riguarda l'illuminazione pubblica ad esempio in Viale Carducci abbiamo sostituito un impianto ormai obsoleto interverremo nelle prossime settimane con una nuova illuminazione in Piazza Roma quindi dopo il nuovo sottopasso ciclopedonale quindi verrà realizzata anche una nuova illuminazione e poi proseguiremo anche per migliorare quello spazio con nuovi arredi quindi diversi interventi che abbiamo in programma già finanziati e che insomma vedranno la luce nei prossimi mesi I parcheggi in Via della Luna quando verranno sistemati visto che sono stati tolti per la pista ciclabile poi illuminazione mancante nella stessa via quindi Via della Luna occorrono due lampioni Ci prendiamo la segnalazione e poi cercheremo assieme all'ufficio tecnico se mai facciamo prima un sopralluogo vediamo insomma qual è perché Via della Luna insomma è lunga e quindi vedremo insomma qual è la richiesta da parte del cittadino poi se anche più preciso meglio così riusciamo ad averla già da stasera Certo, le chiedono ma è soddisfatto del restyling della stazione ferroviaria di Marotta? Tra l'altro anche qua abbiamo delle fotografie perché ne avremmo parlato poi nel corso della puntata Sì, siamo soddisfatti ed è stato un intervento molto importante da parte di RFI finalmente una stazione moderna accessibile con nuove pensiline un nuovo sottopasso con l'abbattimento dove è stata prevista appunto l'abbattimento delle barriere architettoniche con la realizzazione di due ascensori e quindi è un investimento che ci ha fatto piacere anche perché siamo una località turistica e quindi migliora ancora di più l'immagine del nostro territorio servono altri interventi perché abbiamo richiesto a RFI di ripristinare i servizi igienici all'interno della stazione di riqualificare il fabbricato centrale quindi speriamo che insomma portino avanti questi progetti anche nei prossimi mesi Invece per quanto riguarda l'arretramento della ferrovia qui avete inviato delle osservazioni? Abbiamo inviato delle osservazioni alla Regione Marche questo sia il mio intervento sulla stampa locale la Regione ha chiesto a tutti i comuni costieri di inviare delle osservazioni per quanto riguarda il potenziamento della linea ferroviaria adriatica come Comune di Mondolfo abbiamo segnalato diverse criticità abbiamo richiesto il miglioramento dei sottopassi pedonali esistenti che in alcuni punti non sono accessibili per i disabili parlo del sottopasso di Piazza dell'Unificazione ad esempio quello vicino alla stazione ferroviaria e in più abbiamo chiesto alla Regione di proseguire nella battaglia del no alle barriere antirumore assieme ai comitati queste barriere impattanti che avrebbero appunto un impatto devastante sui nostri territori ed infine all'arretramento della ferrovia a nostro avviso serve una visione regionale abbiamo chiesto di nuovo alla Regione di convocare tutti i comuni costieri appunto redigere uno studio di fattibilità che guarda tutti i comuni non solo Pesaro che ha le sue problematiche che devono essere risolte ma serve uno studio di fattibilità che guarda tutto il litorale marchigiano proprio per portare avanti un progetto che ci vorranno decenni prima di realizzarlo però per mettere insomma per porre le basi abbiamo tanti altri messaggi ne vado a leggere qualcuno prima di andare in pubblicità le chiedo un voto e risposta il parcheggio adiacente alla dita di verniciatura in via Valle del Pozzo è privato oppure comunale? allora in via Valle del Pozzo mi sembra che sia privato quindi un parcheggio privato come mai non va avanti la lottizzazione da via Vecchia Osteria fino alla Pergolese? da via Vecchia Osteria fino alla Pergolese sono lavori pubblici? non so di quale forse privati anche in questo caso lottizzazione? parla? sì parla di una lottizzazione ecco anche in questo caso se riuscite a darci qualche dettaglio in più sì magari che riusciamo magari a rispondere in maniera più dettagliata Bosco Urbano una sempre maggiore attenzione all'ambiente vede grosse quote di cittadini non favorevoli ad un'ulteriore cementificazione della natura non avete pensato ad un'area da adibire proprio a bosco protetto? al momento non l'abbiamo prevista però potremo portare la questione in consiglio comunale per vedere quale potrebbe essere l'area più indicata per realizzarlo buonasera sindaco intanto iniziano così complimenti per il lavoro svolto finora ci sono progetti per via Arturo Martini Amarotta si tratta di una strada molto trafficata dai ragazzi con la presenza della chiesa di San Giovanni con l'annisso oratorio della palestra campo sportivo e della polisportiva mancano parcheggi corsie pedonali e soprattutto un dissuasore di velocità già presente in via Treppini poi dopo c'è un'altra domanda ma tanto le facciamo rispondere a questo sicuramente è una via molto trafficata è stata oggetto di manutenzione di rifacimento del manto stradale nella fine 2016 però ecco dal nostro punto di vista su via Martini interveremo soprattutto per quanto riguarda la riduzione del rischio allagamenti ci tengo a precisare questo aspetto stiamo portando avanti un progetto anche lì che riguarda via Martini e quindi le risorse a bilancio daremo priorità a questo tipo di interventi poi per quanto riguarda la segnaletica se ci sono osservazioni dei dossi da installare interventi proprio strutturali al momento non sono previsti semaforo centocroci con due rotatori vicine la strada è Anas la proprietà della strada è Anas e bisogna valutare con loro se ne ravvisano la necessità di una rotatoria in quell'incrocio visto che è molto stretto e quindi potrebbe essere di difficile realizzazione quindi bisognerebbe intraprendere il percorso che è stato avviato con Amarotta nell'area ex passaggio a livello dove appunto sta andando avanti il progetto della rotatoria tra la strada stata alle 16 e la Pergolese le segnalano anche che manca l'illuminazione su via Litorania tra poco ritorneremo in diretta per parlare del piano spiagge della raccolta differenziata è cambiato un po' il sistema e andremo a leggere ancora i vostri messaggi ci fermiamo per qualche istante bene bentornati in diretta allora sindaco vorremmo sapere le scrivono quando ci porterà via dal comune di Fano visto che per loro Ponte Sasso non esiste pista ciclabile piena di sabbe trascuratezza totale solo promesse in tempo di elezioni quindi c'è qualche cittadino che vorrebbe diventare un residente di Marotta Mondolfo ci fa piacere i cittadini ecco mi fa piacere un attestato di stima per la nostra amministrazione ma anche soprattutto per il comune di Mondolfo sicuramente è una località turistica che deve essere valorizzata sia Ponte Sasso che Torrette ma anche Marotta cercheremo di fare del nostro meglio come comune di Mondolfo per collaborare assieme a Fano e cercare di rilanciare ancora di più le nostre località turistiche parlavamo prima della lottizzazione e le precisano che si tratta di via vecchia Osteria via Sant'Irene fino al Casello capisco che non avendo carte sotto mano non so se è in grado di dare una risposta precisa su questo si non è semplice poi quando si parla di lottizzazioni si parla di privati quindi di volontà anche private in base allo strumento quello che è previsto dallo strumento urbanistico e quindi ecco non è semplice rispondere alla domanda del cittadino le dicono che il canneto sul lungomare a sud delle vele fino alla casetta in vendita non è stato tagliato e poi come mai non venire ripulito il fossato in via Unità d'Italia che è pieno di terra dopo l'alluvione di novembre sì il terreno è privato quello sul lungomare perché sono terreni privati quindi faremo la diffida solita come comune di Mondolfo proprio per richiederne la pulizia mentre dopo la casetta fino al camping girasole il privato che è diverso da quello del terreno a fianco invece ha provveduto a pulire appunto dalle canne il terreno stesso le richiedono se via Illica a Marotta verrà riqualificata e poi un'asfaltatina in via San Sebastiano in eventuale anche senso unico magari andando verso Centocroce che tra pulmini scuola camion camioncini trattori agricoli è sempre un gran casino in questi anni stiamo mettendo diverse risorse per quanto riguarda la manutenzione delle strade abbiamo inserito quelle tre strade nel progetto del bando regionale quindi quegli interventi verranno realizzati ce ne sono tanti tanti altri penso anche a via Passo di Rango a via San Gervasio quindi ci sono diverse strade anche lì nella zona che devono essere attenzionate cercheremo con il tempo e compatibilmente con le risorse di bilancio di dare una risposta però sono importanti queste segnalazioni perché poi come amministrazione comunale le segniamo per portarle avanti come era successo con via Svevo via San Pasquale e tante altre le chiedono giustamente una risposta sul fossato di via Unità d'Italia se è possibile ripulirlo sulla pulizia poi faremo verificare anche dall'ufficio manutentivo chiedono invece una sistemata alla strada che va alla Madonna delle Grotte quindi forse anche quella ha bisogno di una nuova asfaltatura sì sono previsti abbiamo fatto un'asfaltatura di via le Grotte che porta appunto a Madonna delle Grotte ma penso che facciano riferimento questa volta via la Coppa che è l'altra strada che porta a Madonna delle Grotte e è previsto un intervento di rifacimento del manto stradale da parte di ASET nel 2022 quindi insomma ci confronteremo con loro per via di un intervento alla fognatura che hanno realizzato qualche mese fa ritorniamo sul lungomare spiagge sempre più vivibili e accoglienti a che punto è il piano particolareggiato sì il piano particolareggiato delle spiagge è stato uno dei punti all'ordine del giorno dell'ultimo consiglio comunale quindi è stato approvato per la seconda volta poi entro sei mesi ritornerà appunto in consiglio comunale l'abbiamo portato in consiglio comunale dopo le osservazioni da parte dei cittadini degli operatori del turismo degli operatori balneari è stato un piano spiagge molto partecipato siamo soddisfatti perché era un piano molto datato del 95 poi ha subito negli anni delle modifiche l'ultima modifica anche se erano piccole modifiche erano state nel 2007 l'obiettivo del piano particolarizzato delle spiagge era quello di avere un unico piano per tutto il litorale dopo l'unificazione di Marotta avevamo due piani spiagge di rilanciare la zona sud quindi far rientrare la zona sud delle vele all'interno del piano particolarizzato delle spiagge in quanto faceva parte di un piano battimeli degli anni 80 che era di difficile attuazione quindi questo permetterà anche i privati di realizzare interventi nella zona quindi a sud non sono previste nuove concessioni non viene ridotta la spiaggia libera quindi viene mantenuta la stessa metratura per quanto riguarda le spiagge libere che è anche una bella particolarità da parte del nostro lungomare questo alternarsi di spiagge libere e stabilimenti in concessione viene dato la possibilità di migliorare le strutture e alcune metrature delle strutture già esistenti come richiesto da tanti anni da parte degli operatori per migliorare l'attività migliorare i servizi offerti ai cittadini e ai turisti abbiamo visto che negli ultimi anni sono aumentate le attività hanno aperto tante attività sul lungomare sul nostro litorale e quindi questo piano va in quella direzione mia figlia prende la Corriera a Sebastiano è possibile fare una pensilina per quando piove? Allora per quanto riguarda le fermate bus ci saranno degli interventi tramite un finanziamento ottenuto dalla regione Marche perché le pensiline rientrano nel trasporto pubblico appunto locale gestito dalla regione e vedremo sono previste 10 pensiline penso che non era prevista quella di San Sebastiano quindi sarà da vedere un po' il caso appunto specifico poi se la cittadina ci segnala anche il punto punto preciso poi lo vedremo nel breve periodo è previsto un piano per originare alluvioni nell'area Marotta Nord nell'area Marotta Nord come dicevo prima è previsto il nuovo scarico a mare di via Corfu per il quale ci siamo presentati a un bando sul rischio idrogeologico del ministero dell'interno abbiamo ottenuto il finanziamento sono in corso gli affidamenti le pratiche burocratiche per l'affidamento appunto dei lavori speriamo nella primavera di quest'anno di poter finalmente iniziare metteremo però altre risorse nel bilancio di previsione che approveremo a fine febbraio inizio marzo metteremo altre risorse per la riduzione del rischio allagamenti sia per la realizzazione dell'attraversamento ferroviario sempre legato allo scarico a mare di via Corfu e sia come dicevo prima anche per via Ferrari interventi su via Ferrari via Betti e via Martini sono risorse importanti a cui dedicheremo appunto una buona parte progetti importanti a cui dedicheremo una buona parte di risorse del bilancio buonasera sindaco molti proprietari di cani portano spasso l'animale senza raccogliere gli escrementi è forse ora di fare qualche multa sì ci vorrebbe un vigile per ogni per ogni cittadino e tutto sta anche nella correttezza nel senso civico delle persone sicuramente cercheremo di fare maggiori maggiori controlli in base anche alle segnalazioni dei cittadini nei diversi quartieri vedo che è una problematica che c'è in tutti i comuni e quindi il corpo vigili ha un numero sempre inferiore rispetto a quanto è sotto organico ecco sì dal sottopassaggio pedonale ciclabile zona hotel garden per andare sul lungomare in direzione bagni solindo si deve passare su via tronto specialmente in estate che è tanto trafficata ed è presa anche contromano da pedoni ciclisti si può trovare una soluzione? Ma adesso un'alternativa lì è difficile da individuare? Faremo magari un sopralluogo assieme alla polizia locale per capire assieme all'assessore alla viabilità Tinti per capire se ci sono possibilità per migliorare in questo caso la sicurezza Le chiedono della sistemazione dell'ex con la Betton e poi quando verrà asfaltata via Gagarin? Allora via Gagarin ne abbiamo parlato prima e l'intervento è previsto nel 2022 quindi a marzo partiranno le gare e poi compatibilmente con le gare affidamento dei lavori partiremo anche con con l'asfaltatura e poi non ho capito la prima parte della domanda Dell'ex Colabeton non ne ha conoscenza ok non saprei aiutarle in questo caso dunque buonasera vorrei chiedere se il progetto di aprire gli uffici postali a Marotta nel pomeriggio sarà mai attuato adesso solo al mattino sono attivi? adesso quello è un servizio da parte che deve dare posta italiana alla cittadinanza gli faremo l'ennesima comunicazione informativa per migliorarlo ancora di più perché ci sono tanti cittadini che usufruiscono di questo servizio e alcune volte gli orari di lavoro non bastano per l'utenza il numero gli ultimi due messaggi per lei allora può ripristinare il bidone del verde in via Ardensen Ardensen e poi via Andersen eh sì hanno sbagliato a scrivere dopo quando siamo in diretta è difficile anche leggere poi come avverrà la raccolta rifiuti per i villeggianti degli appartamenti in affitto partiamo dalla nuova raccolta dal nuovo sistema di raccolta differenziata sì intanto per rispondere al cittadino che il sistema di raccolta differenziata è cambiato adesso è porta a porta quindi non ci sono e non ci saranno più i contenitori eh stradali e quindi soliti e anche e quindi non ci saranno più neanche i contenitori stradali degli sfalci come fanno attualmente tanti cittadini chiamano al numero verde proprio per prenotare il ritiro e in più per gli sfalci c'è anche un servizio porta a porta il giovedì quindi c'è la possibilità di ritirare anche piccoli sfalci porta a porta e per quanto riguarda i turisti quando sarà primavera estate inizieremo anche ad informare maggiormente i turisti e coloro che hanno che sono proprietari delle seconde case perché si devono adeguare al nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta come hanno fatto i residenti del comune e che devo dire sono stati perfetti perché tutti si sono adeguati al nuovo servizio al cambio di abitudine già dai primi giorni ci saranno delle eco-isole informatizzate quindi che sarà possibile accedere con tessera proprio per per i turisti coloro che sono proprietari delle seconde case che non vivono tutta l'estate nel nostro territorio comunque nella pagina raccolta differenziata a Mondolfo Facebook e Instagram che abbiamo appunto che è stata creata ad hoc ci sono tutte le spiegazioni del caso daremo spiegazioni anche in futuro c'è anche un video che riepiloga ancora l'assemblea che avevamo realizzato nel quartiere tra i cittadini e quindi lì si potranno prendere tutte le informazioni e c'è anche i vari numeri di telefono a cui chiamare per le varie segnalazioni Sindaco grazie per essere stato con noi un ringraziamento anche alla regia Riccardo Sora e Cristiana Guerra speriamo di riaverla presto nei nostri studi grazie a voi per questa opportunità grazie di nuovo a lei anche a tutti i cittadini che attraverso messaggi e telefonate riescono a creare con noi questa diretta grazie ancora e appuntamento a domani grazie a tutti